Il trasportino o kennel. Avere un trasportino è davvero indispensabile, può tornarti utile in tante situazioni e permette al tuo amico di stare in una zona sicura sia dentro che fuori casa. In casa, questo perché può essere utilizzato dal cane come una vera propria tana, per mettersi a riparo stare tranquillo. Inoltre può essere utilizzato se hai la necessità di dover fare qualche faccenda domestica un po' più impegnativa, oppure se hai qualche ospite in casa e hai un po' paura dei cani. O ancora se hai bisogno di fare l'inserimento graduale di un altro animale, o infine se qualche cane è in calore devi aiutarti nel gestire appunto il gruppo e devi separarli. La cosa fondamentale è che il cane associ il trasportino a qualcosa di estremamente positivo, un luogo sicuro in cui potrà stare tranquillo a riparo dalla confusione, dove può anche mangiare, vuoi dargli i suoi stuzzichini e stare tranquillo e calmo dentro il trasportino senza chiuderlo. Ecco perché è necessario svolgere degli esercizi specifici per far sì che al cane non nascano trame per entrare nel kennel e quindi o li metta paura o lo frenano ad entrare. Quindi come farlo entrare in un trasportino senza paura? L'esercizio è abbastanza semplice, bisogna appoggiare il trasportino come una scatola così, no? Quello di plastica parliamo e quindi togliamo il sopra e facciamo entrare il cane e conoscere la base, quindi piano piano, va dentro, poi cominciamo a metterci il coperchio diciamo e la porticina aperta e cominciamo a fare la stessa cosa. Poi abbiamo anche la gabbia, la gabbia è quella tutta aperta, basterà coprire i tre lati con un telo per farlo diventare una tana tranquilla. Cosa fondamentale, non spingerlo ma lascialo entrare piano piano aiutandoti con del cibo, dei premi succulenti e ciò che a lui piace di più ovviamente. Il trasportino dovrà essere collocato in una zona tranquilla della casa e non in una zona di passaggio come l'ingresso o vicino alla tv. Ricordatevi che il cane sente molto più di noi quindi figuratevi sentire sempre tutto questo rumore. All'interno dovranno essere metti i premetti, la ciotola, i suoi giochi, la sua copertina e tutto ciò che solitamente desidera nella sua cuccia. Altre cose importantissime è non lasciare sempre la porta chiusa e premialo quando è all'interno. Lasciate la porta aperta e premiatelo non quando esce ma quando entra. Il trasportino deve essere abbastanza largo da consentire al tuo amico di alzarsi, di girarsi e stare comodamente e non per forza tutto ragomitolato per il poco spazio. Forse potrà sembrarti un eccezzo di zelo ma ti garantisco che non è così. Con l'esperienza ho imparato che il trasportino fuori casa è indispensabile. Quando parliamo di viaggiare in macchina è questo per due motivi fondamentali. La sicurezza, sai esistono anche le cinture di sicurezza per cani ma sono di gran lunga meno affidabili in caso di incidente. Infatti se vedete i test vedete con quella cintura quando c'è un incidente cosa accade. Il cane è sempre più protetto dentro il trasportino sia perché non gli permette di andare a sbattere controveti o altri sedili sia perché se dovesse essere appunto cattopultato fuori dall'auto non avrebbe la possibilità di fuggire per la paura. Così con il rischio di essere investito quindi stando dentro il cane non scappa. Se fosse libro il cane uscirebbe fuori e potrebbe essere investito. Beh su questo punto penso che non ci sia nulla da spiegare. Il cane se ben abituato sarà ben lieto di preferire la comodità del trasportino alla scomodità dei sedili o del bagagliaio. Il mio consiglio se non hai ancora preso questo prezioso strumento ti spingo fortemente ad acquistarlo. Però mi raccomando non usarlo mai per arginare comportamenti del cane che invece dovrebbero essere risolti in altro modo. Come ad esempio il problema che siccome fai bisogno in casa e tu non ci sei o distrugge tutti e molti proprietari chiedo che così si risolve la situazione. Questa condizione è critica riducendo al minimo il danno. Così facendo però non ci rendiamo conto di aver causato altri problemi perché questo infatti potrebbe sfogare in ansia e paura e anche andare direttamente su se stesso quindi leccandosi eccessivamente o anche andandosi ad autolesionare. Quindi il trasportino è utile per la macchina, per la casa, quando andate in qualche albergo, qualsiasi cosa ma non chiudete il cane dentro per ore e ore. Mi raccomando, il trasportino è utile per le cose che vi ho elencato ma non può passare la giornata 4-5 ore dentro un trasportino. Ciao!